Mobilitazione contro il deposito dei rifiuti radioattivi, iniziativa ieri a Fulgatore per dire no all'ipotesi di un deposito di scorie nucleari nella provincia di Trapani. E questa è la nostra notizia del giorno. Trapani, dopo la recente manifestazione accalata a Fimi-Sogesta contro il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, il movimento di protesta si intensifica. Ieri, domenica 28 aprile, un'assemblea a Fulgatore ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti. Queste località sono state designate dalla Sogine come possibili siti per il deposito, nonostante le obiezioni dei comuni ed è precedente il governo regionale. Il 5 gennaio del 2021 arriva la notizia a Trapani, al comune come in tutta Italia, della pubblicazione della carta nazionale del deposito dei rifiuti radioattivi e nucleari. Un deposito che si deve realizzare in Italia, una situazione corretta, ma praticamente vengono individuali 67 siti potenzialmente idoni, fra cui quello di Fulgatore e Trapani, quello di Caladafimi-Sogesta e altri due in Sicilia e poi gli altri in Italia. Abbiamo presentato singole osservazioni, dove abbiamo avuto la collaborazione delle università siciliane, di tutti gli ordini professionali, dei geologi, degli agronomi, degli ingegneri, per produrre delle carte che sono agli atti, che sono stati mandati alla Sogine, società nazionale collegata al Ministero dell'Ambiente, per l'individuazione di questo sito nazionale parco tecnologico e quindi il danno che noi percepiamo qual è? Che siamo appunto a Fulgatore, in una zona prettamente agricola, di alta vocazione vitivinicola, zona docco erice. Questi centri di stoccaggio devono realizzarsi a non meno di un chilometro dall'autostrada, dalla ferrovia, dalla strada statale. Quindi noi abbiamo qua la ferrovia, la strada statale 113, l'autostrada, che sono a un chilometro esatto dell'inizio di questo rettangolo di 200 ettari, tagliato dalla strada provinciale 35, che collega Fulgatore a Marsala, dove c'è un acquedotto di Monte Scuro, un'infrastruttura importantissima per la Sicilia occidentale, poi c'è un parco eolico realizzato un anno fa, che funziona, e quindi si dovrebbe andare a smantellare, per realizzare questo centro di stoccaggio nazionale a Fulgatore, una serie di infrastrutture necessarie, ma per quanto riguarda la città di Trapani, che fra l'altro siamo in zona sismica, noi siamo dentro qua uno degli ingressi dell'aeroporto basenato di Birgi, anche aeroporto civile, quindi siamo in un sito, per quanto mi riguarda in idoneo. Terminiamo qui lo spazio dedicato alla notizia del giorno, vi aspetto tra poco con le altre notizie. Aggressione davanti all'asilo, una donna nigeriana è stata malmenata da un giovane connazionale, mentre stava accompagnando il figlio a scuola, è accaduto questa mattina a Trapani. Rissa per la spazzatura, due famiglie sono state coinvolte nella gazzarra, sedata dai carabinieri, intervenuti in via Ruisi ad Alcamo. Le europee si infiamma la campagna elettorale, botta e risposta tra Lele Barbara e Mimmo Turano, entrambi candidati alle elezioni del prossimo 8 giugno. Deputati a confronto, l'onorevole Safina fa il pienone con la manifestazione del PD, l'onorevole Bica incontra la stampa per fare il punto sui suoi primi 60 giorni da deputato. Poi lo sport, conclusa la Monterice, cala il sipario sulla 66esima edizione della storica crono scalata, a trionfare Simone Fagioli. Il ricordo delle vittime ricorre oggi il 34esimo anniversario del naufragio della motonave espresso Trapani, la città ricorda la tragica vicenda, ne parleremo nel nostro approfondimento di oggi. Un buongiorno da parte mia e di tutta la redazione di Telesud. Aggressione questa mattina davanti all'asilo Don Bosco di Trapani, vittima una donna straniera. Aggredita mentre stava accompagnando il figlioletto all'asilo, è accaduto questa mattina davanti al plesso Don Bosco di Trapani. L'episodio di violenza si è verificato nei pressi dell'autostazione di piazza Ciaccio Montalto, da dove entrano i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia che fa parte dell'istituto comprensivo Bassi Catalano. Protagonista della vicenda, un giovane nigeriano che avrebbe picchiato una connazionale per motivi ancora oscuri. Secondo alcune testimonianze, i fatti tuttavia sono ancora da accertare, le voleva sottrarre il figlio. La donna stava raggiungendo l'ingresso quando è stata avvicinata dal giovane che l'avrebbe malmenata davanti al bambino. La scena non è passata, non è osservata alle maestre che hanno dato l'allarme con una telefonata al 112. Sono subito intervenuti i carabinieri, ai quali si è poi affiancata una pattuglia degli agenti della squadra volante impegnati nei servizi di controllo del territorio. L'aggressore è stato identificato, perquisito e condotto in caserma per accertamenti dai militari dell'arma che si occupano del caso. La donna è stata invece accompagnata in ambulanza al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Dopo aver ricevuto le cure del caso, anche lei è stata ascoltata dai militari dell'arma impegnati a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sta di fatto che l'aggressione ha creato allarme tra le mamme che stavano accompagnando i loro figli a scuola. Rissa per la spazzatura ad Alcamo coinvolte due famiglie. Vediamo. Rissa per la spazzatura ad Alcamo, protagonisti della gazzarra, sedata dai carabinieri intervenuti in seguito ad una segnalazione pervenuta al 112. Due nuclei familiari è accaduto in via Ruisi, nella zona del centro storico e soltanto il tempestivo intervento dei militari dell'arma ha scongiurato che la gazzarra potesse degenerare ulteriormente. I sacchetti della spazzatura sono troppo vicini alla mia abitazione, il preludio dell'episodio di violenza tra vicini di casa coinvolti due uomini e due donne che se le sono date. Pugni, schiaffi, capelli tirati. Un'altra donna invece si è adoperata per portare la calma ma senza successo. Due famiglie sono arrivate alle mani per la sistemazione della spazzatura davanti casa e dalle parole alle vie di fatto il passo è stato breve. L'attemosfera è subito diventata incandescente a tal punto che i residenti hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. I protagonisti della rissa sono stati identificati dai militari dell'arma. Dopo anni di lotta oggi la svolta, il casolare dove venne ucciso Peppino Impastato è stato affidato a casa memoria. In questo casolare, il 9 maggio del 1978, venne ucciso Peppino Impastato, il giornalista attivista di Cinisi che lottava contro la mafia fu assassinato da Cosa Nostra. Poi il suo corpo venne abbandonato su questi binari. Dopo anni di lotta oggi è un giorno decisamente importante. Questo casolare viene restituito alla collettività e sarà aperto al pubblico ogni giorno. Chiunque quindi potrà visitare un luogo simbolo della lotta alla mafia, oggi il taglio del nastro. Il 9 maggio la regione concederà in uso, incomodato gratuito, naturalmente all'associazione Peppino Impastato, l'utilizzo di questo casolare che è stato ristrutturato con fondi della stessa regione. Sono contento di dare questa ottima e lieta notizia che è in sintonia con l'impegno della regione, dell'amministrazione regionale, non solo nel contrasto a ogni forma di criminalità, ma anche nel ricordo di chi ha perso la vita in questa azione quotidiana che ha svolto contro la mafia. Siamo qui per onorare, ricordare questa figura e per dare un messaggio alla mafia, senza se e senza ma. Questo governo la contrasterà in tutte le forme possibili, guardando bene all'interno della stessa macchina burocratica, contrastando ogni forma di corruzione, di peculato ed altro, perché la mafia è sempre vicina al potere, non è né di destra né di sinistra, è un fenomeno radicato che occorre sradicare con grande forza e determinazione. Momento importante, un percorso sicuramente difficile che parte sostanzialmente dal 2014, quando è stato vincolato il casolare e quindi dichiarato di interesse storico-culturale importante. A cavallo tra il 2019 e il 2020 c'è stato l'esproprio, il 2023 cominciamo i lavori e oggi finalmente c'è la fine lavori. Contenti perché non solo restituiamo questo luogo alla collettività, ma diventerà sicuramente un percorso importante e di memoria. Finalmente siamo riusciti ad ottenere questo risultato, che è una vittoria per tutti, per la società civile, per le istituzioni, ma soprattutto per noi come Casa Memoria, per i compagni di Peppino, perché finalmente il casolare e il casolare verrà restituito alla società civile. E' la cosa che è importante che il governatore ha annunciato che verrà affidato a noi, verrà affidato a Casa Memoria, all'associazione Impastato, diciamo a quelle associazioni che fanno riferimento alla nostra storia. E questo è già una cosa importante perché il casolare non può cadere nel degrado. Perché purtroppo qui in Italia si fanno le grandi opere, si spendono tanti soldi e poi si abbandonano. Allora, per evitare una cosa del genere, noi ci siamo resi disponibilissimi a gestire il casolare, che è per noi importante. Si è svolto ieri il terzo appuntamento della domenica, San Liberale, l'iniziativa del FAI Trapani, che ha lo scopo di far scoprire le bellezze della chiesetta che si trova nell'estrema punta della città. San Liberale, la storica chiesa edificata sull'estrema punta della città, continua a far parlare di sé. Ieri, infatti, si è svolto il terzo appuntamento della domenica, San Liberale, l'iniziativa della delegazione FAI e del gruppo FAI Giovani di Trapani, realizzata in collaborazione con la Diocesi, la parrocchia San Francesco e alcune associazioni del territorio. L'evento, che si svolge una volta al mese, ha lo scopo di riportare la popolazione trapanese a frequentare con assiduità e passione la chiesetta, che è parte integrante della cultura e della tradizione della città. Siamo molto contenti di queste attività organizzate prevalentemente dal nostro gruppo giovani. Il FAI è una realtà importante che sta portando tanto nella città di Trapani e queste domeniche a San Liberale stanno riscuotendo un grande successo di persone e di attrazione anche per i giovani che raccolgono con entusiasmo queste nostre iniziative alla scoperta di tante cose che nessuno conosce. San Liberale è il centro della cultura trapanese, si può dire. È la storia della stessa città, i pescatori, i corallai, la devozione che c'è per questo luogo, la particolarità mistica che la chiesetta di San Liberale ha per la sua posizione geografica, per la sua collocazione e per quello che rappresenta per la cultura stessa della città. L'incontro di ieri ha visto come moderatore il geologo Gianfranco Orioles che è anche delegato all'ambiente FAI Trapani e FAI Sicilia. Orioles ha parlato di come sono cambiati i luoghi nel tempo, passeggiando tra antichi sedimenti marini. Alla spiegazione che si è svolta all'interno della chiesetta di San Liberale è seguita poi una passeggiata nella parte retrostante della chiesetta. Tra le particolarità dell'incontro, la spiegazione della pietra palazzo che è stata utilizzata a Trapani ma anche nella reggia di Caserta. L'incontro di cui stiamo parlando in realtà è una roccia, quindi un insieme di sedimenti che sono ripificati nel tempo geologico ed è stata utilizzata per realizzare i grandi palazzi che ci sono lungo la Corso Vittorio Emanuele, quindi la rua grande, e hanno permesso di poter antropizzare questi luoghi proprio cavando questa roccia dai luoghi dove la potevano trovare, quindi la zona del Piazza Generale del Scio, la zona di Viale delle Sirene e diciamo a ridosso qui di Torre dei Ligni. È una roccia che per le sue caratteristiche cromatiche e per la sua resistenza alla flessione ha permesso anche di realizzare delle opere con delle colonne lunghi anche diversi metri proprio per la loro resistenza meccanica. Ci fermiamo ma solo per una breve pausa, vi aspetto qua. Europee si infiamma la campagna elettorale, botta e risposta tra Lele Barbara e Mimmo Turano, entrambi i candidati alle elezioni del prossimo 8 giugno. Deputati a confronto, l'onorevole Safina fa il pienone con la manifestazione del Partito Democratico. L'onorevole Bica incontra la stampa per fare il punto sui suoi primi 60 giorni da deputato. Lo sport, conclusa la Monterice, cala il sipario sulla 66esima edizione della storica crono scalata a trionfare Simone Fagioli. E adesso spazio alla nostra informazione elettorale in vista delle elezioni europee. Una decisione a sorpresa ma non più di tanto. L'assessore al Comune di Trapani, Lele Barbara, ha deciso di candidarsi alle elezioni europee con Europa Verde. Vediamo. Se ne parlava da tanto, adesso è arrivata l'ufficialità. L'assessore del Comune di Trapani, con tante deleghe, Emanuele Barbara, è pronto a fare il salto di qualità e a candidarsi alle europee che si traranno a giugno. Il giovane assessore trabanese, Tranchidiano, ma senza partito, ha scelto di farsi corteggiare Dalle Luca Orlando, candidato anche lui con la lista Europa Verde. Chiaramente si tratta di una scelta un po' a sorpresa, che non si aspettava quasi nessuno, però è una scelta che nasce guardandomi un po' intorno, guardando un po' gli orizzonti futuri anche del nostro territorio, confrontandomi con tante persone che si sono chieste come mai non vi fossero trapanesi candidati alle elezioni europee. È una competizione dove ci sono un po' troppi big nazionali che forse hanno scambiato anche la nostra circoscrizione come una terra di conquista. È una cosa che non sono disposto ad accettare, non ho ritenuto accettabile, a prescindere da quali siano le aree politiche, i partiti, le correnti e quant'altro. Ho ritenuto doveroso proporre questa candidatura, che è una candidatura assolutamente civica. È un progetto più ampio, è un progetto che guarda al futuro, guarda alla possibilità di allargare anche gli orizzonti verso le future scadenze elettorali. Siamo in tanti ad essere coinvolti. Ho sempre offerto la mia disponibilità, la mia volontà di fare qualcosa per il territorio e in questo caso sposo un progetto che è quello di Europa Verde. Il clima elettorale così si infiamma ancora prima delle ufficializzazioni delle liste dei candidati al Parlamento europeo. Ecco la risposta dell'onorevole Mimmo Turano, candidato anche gli europei con la Lega di Salvini, alle ambizioni del giovane assessore trapanese Lele Barbara. Una competizione quella delle europei che si racchisce di altri competitor, come il giovane Lele Barbara. Assessore a Turano, non si è più da solo a correre. Sono molto contento. L'ultima volta che abbiamo registrato Respubblica la scorsa settimana ero da solo. Io ho fatto un appello a dire speriamo che i partiti si svegliano e mettono qualche altro candidato. In quella trasmissione ho detto a chiare lettere che bisognava essere candidati non tappappuchi o candidati per portare soltanto il contributo sapendo di fare delle candidature di servizio. Lele Barbara non ha nessuna difficoltà a definire la sua candidatura di servizio. Abbiamo visioni diverse. Lui vuole servire qualcuno, io voglio servire il mio territorio. Lui vuole servire un partito sapendo che non raggiungerà nessun obiettivo. Io voglio essere eletto per difendere questo territorio come ho sempre fatto e devo essere sincero con coraggio a prescindere da tutti i partiti e a prescindere dal mio partito. Io difendo la provincia di Trapani che è stata violentata da chi non la vuole rappresentare. L'onorevole Giuseppe Bica incontra la stampa per fare il punto sui suoi primi 60 giorni da deputato. Un incontro con la stampa per fare il punto degli interventi che l'onorevole Giuseppe Bica ha posto in essere in appena 60 giorni dal suo insediamento. Incontra la stampa ovviamente per parlare con i cittadini ai quali si rivolge spiegando il suo da fare in Parlamento regionale siciliano. Ritengo che il rapporto con la stampa sia importante e fondamentale nella crescita di un territorio e un parlamentare fa bene a collocare il più possibile con la stampa perché la stampa non è solo la comunicazione che il parlamentare dà a voi ma anche quella che può ricevere proprio dal fatto che voi siete sul pezzo siete sul territorio quotidianamente. Io credo che questo sia un servizio utilissimo e importante per la collettività e per la crescita di entrambe le posizioni. Il parlamentare che poi deve trasformare quelle che sono le esigenze delle stanze territorio in azione politica e voi che giustamente nella comunicazione così avete un filo più diretto e più chiaro sulle cose che si vogliono realizzare. Condensiamo questi 60 giorni. 60 giorni intensi, la legge sulle cave che ha anche bisogno di perfezionamenti che ho trovato in cardinata ma sulla quale ho potuto portare già qualche amendamento importante e poi l'emergenza idrica soprattutto che si sta portando avanti dove abbiamo segnalato diversi pozzi da poter riutilizzare in provincia di Trapani perché c'è crisi ma l'acqua c'è bisogna anche poterla rendere fruibile e poi Villa Rosina sono gli argomenti più importanti che ho seguito in questi giorni sulle quali sono fiducioso di dire che il governo ha grata attenzione su queste tematiche per cui sono convinto che i risultati saranno positivi per la realtà provinciale di Trapani. Tra la gente e con la gente è stato il tema dell'iniziativa del PD promossa dall'onorevole Dario Safina che si è tenuta lo scorso fine settimana all'hotel Crystal a Trapani. Vediamo. Un tempo nuovo è possibile questo lo slogan è scelto per la manifestazione promossa dall'onorevole Dario Safina che ha visto la partecipazione dei vertici del PD e di molti iscritti e simpatizzanti. Al Crystal c'erano anche i sindaci di Trapani Ederice, Giacomo Tranchida e Daniela Toscano. Presente anche per il Movimento 5 Stelle Vincenzo Morizio Sant'Angelo che ha accettato l'invito di Safina a partecipare all'incontro nel corso del quale il parlamentare regionale ha toccato diversi temi. Direi di rendere più forte un partito sul territorio di renderlo più capillarmente radicato di essere in grado di ascoltare maggiormente quelle che sono le esigenze che vengono dai cittadini e dalle cittadine e poi condensare tutto in una proposta politica che ha come obiettivi fondamentali la tutela della giustizia sociale e dell'eguaglianza della solidarietà. E questo deve farsi a partire dalle città perché come dico sempre io il mondo non si cambia da New York ma il mondo lo dobbiamo cambiare da Trapani, da Valderice, da Paceco, da Salemi, da Buseto Palizzolo da quelli che sono i nostri territori. Dunque una forza che si radica che è in condizione di ascoltare è una forza politica che sappia tener conto di quelli che sono le forze dei nostri territori le esigenze dei nostri territori e sappia mettere insieme uomini e donne di buona volontà affinché si possa costruire questa nuova ricetta progressista e riformista che deve rendere i nostri territori sempre più attraenti e possa consentire a loro di contribuire alla crescita della Sicilia e del meridione d'Italia all'interno di una nuova politica meridionalista che non è un meridionalismo piagnone che rivendica l'osso ma è un meridionalismo che invece ha a cuore la costruzione di un modello sociale economico e politico in cui il mezzogiorno rivendica il suo ruolo di guida all'interno dell'intero paese e la Sicilia può svolgere un ruolo fondamentale Andiamo agli appuntamenti della nostra emittente questa sera in diretta alle 20.45 e poi in replica anche a mezzanotte andrà in onda una nuova puntata di Sporsu del lunedì in studio Nini Buffa team manager del Trapani Calcio Daniele Quilici assistant coach della Trapani Shark e poi per Land Boleri c'è Norbert Biasizzo Salvatore Barraco e il giornalista Francesco Torrente in tribunetta Spazio Lander 15 dell'ASD Città di Trapani alle 23 invece sarà la volta di Respubblica Sicilia Chiama Europa in studio con il nostro direttore Nicola Baldarotta nella prima parte della trasmissione l'onorevole Giuseppe Pica nella seconda l'assessore al comune di Trapani Emanuele Barbara ci fermiamo ma soltanto per una pausa e poi puntuali con lo sport Eccoci qui pronti con lo sport del lunedì ovviamente apriamo la nostra pagina sportiva con la Monterice perché si è conclusa ieri la 66esima edizione a trionfare ancora Simone Fagioli Cala il sipario sulla 66esima edizione della storica crono scalata Monterice prova inaugurale del nuovo campionato super salita a trionfare superando se stesso in termini di tempi è stato Simone Fagioli per l'undicesima volta sul gradino più alto del podio seguito da Luigi Fazzino secondo e Francesco Conticelli terzo ha vinto il nostro territorio dichiarato il presidente dell'automobile club Trapani Giovanni Pellegrino hanno vinto lo sport e i piloti ma anche tutto quello che c'è stato attorno alla manifestazione ma ascoltiamo le parole del vincitore della Monterice Simone Fagioli perché Monterice ha una storia incredibile sono molto onorato nel farne parte si parlava prima 2003 la prima vittoria qua ero ragazzino adesso sono un po' più maturo è arrivata l'undicesima vittoria sono felicissimo perché è una gara molto impegnativa è una gara dove la macchina ha bisogno di un setup speciale è un freno molto scivoloso quindi sono contento anche dello sviluppo della vittura e poi si ravvolti dal pubblico dalla passione si respira è una roba incredibile sono veramente felice di tutto il fine settimana il tempo abbiamo passato dall'anno scorso un 5 decimi sono contento forse una cosa in più però l'obiettivo era quello di cercare di andare a migliorare le prestazioni dell'anno prima anche se gli anni passano quindi siamo contenti testa bassa guardiamo adesso a Fasano e portare i punti a casa è quello importante come sapete la Trapani Shark è a riposo perché tornerà in campo per i quarti di finale dei playoff sabato 4 maggio con Piacenza la partita si giocherà alle 20 e 30 al Pala Shark andiamo alla palla a mano femminile finisce in parità il big match tra Handball Erice e Salerno la partita più attesa di questa parte finale di campionato prima contro seconda avversarie per Antonomasia con un finale scudetto da espiare l'handball Erice sabato al Palacardella affrontato Salerno nella penultima gara prima dei playoff che decreteranno la squadra campione d'Italia una sfida che sa di antipasto di quella che sarà la parte finale di questo campionato con le arpie riduci della vittoria condosso buono a gestire la gara nel primo tempo in una partita ad alta intensità molto bella da vedere con le neroverdi a chiudere la prima frazione 18 a 13 nel secondo tempo però cala un po' Erice e Salerno che non pecca certamente in esperienza è brava a sfruttare gli errori delle ragazze siciliane portandosi sul pari nei minuti finali che poi sarà l'epilogo del match che si chiuderà a 31 pari ecco il commento post gara della portiera Romina Ramazzotti quando si pareggia così vorrei dire di sì ma soprattutto perché penso che durante la prima parte la partita è stata nostra abbiamo giocato quello che ci avevamo detto in settimana siamo state organizzate disciplinate abbiamo fatto vedere quanto vogliamo fare il risultato secondo tempo sicuramente stanchezza e anche loro hanno buttato un po' di esperienza ci ha penalizzato questa cosa ma penso che abbiamo nel complesso abbiamo fatto vedere cosa possiamo fare vogliamo farlo soprattutto per noi perché lavoriamo solo ogni giorno ce lo meritiamo quindi adesso dobbiamo pensare a Sassari che è l'ultimo campionato non bisogna per niente sopravvalutare perché bisogna andare là è una trasferta difficilissima e poi sicuramente già testa all'otto che ancora sicuramente non sappiamo contro chi andiamo ma non importa perché a noi importa arrivare fino alla fine andiamo al calcio vittoria esterna per il Trapani contro la Gioiese finisce 1 a 2 raggiunti 91 punti e record turnover per mister Torrisi lo ascoltiamo al termine del match questo ci rende orgogliosi a tutti di quello che è stato fatto e soprattutto penso che sia bello anche nei confronti della città e della maglietta che indossiamo e della gente che rappresentiamo quindi oggi uno step importante un obiettivo importante raggiunto e quindi siamo tutti soddisfatti e contenti di aver aggiunto questo tra virgolette ulteriore verdetto al nostro principale che è quello di aver vinto il campionato un obiettivo importante insomma oggi secondo me è stato l'esame di maturità più difficile proprio quello per eccellenza forse perché venire qui chiedere alla mente un approccio importante una gestione della gara importante un'ottima interpretazione e un ottimo svolgimento non era semplice per due motivi perché si incontravano una squadra che aveva già vinto il campionato con una già retrocessa quindi magari nella mente del giocatore non era facile trovare motivazioni per cercare di svolgere una buona gara ancora di più visto che oggi mancavano i trascinatori dello spogliatoio tra virgolette i più grandi Sabatino Cristini Acquadro Primi Cocco Kragel e quindi questa è una squadra che oggi è dimostrato nella sua totalità che ormai ha una mentalità ben impressa nella mente ed è quella di voler ricevere tutte le partite per vincere di non abbassare mai la guardia e oggi ripeto ero curioso perché ribadisco con l'assenza degli uomini più importanti a livello anche di età che sono quelli che hanno trascinato i più giovani a coltivare giornalmente una mentalità o un atteggiamento e venire qua con una situazione di classifica come la nostra e considerando quella dell'avversario andare a fare una prestazione del genere era veramente complicato in più abbiamo fatto esordire anche all'Oisi dal primo minuto abbiamo dato spazio all'Ipins e quindi sono veramente soddisfatto e contento di quello che ha fatto alla squadra oggi lo voglio sottolineare perché a differenza di altre partite secondo me era ancora più difficile avere un atteggiamento come quello che abbiamo avuto nelle gare precedenti in una partita del genere quindi esame di maturità passato con pieni voti e questo mi rende ancora più orgoglioso di questo meraviglioso gruppo che ho a disposizione ricorre oggi il 34esimo anniversario del naufragio dell'espresso Trapani le vittime di quella che è stata la più grave tragedia del mare nelle acque antistanti la città sono state ricordate questa mattina nel corso di una cerimonia che si è tenuta nella strada loro intitolata dall'amministrazione comunale di Trapani e questo è il nostro approfondimento di oggi 13 furono i morti Francesco Gianquinto il cuoco della nave Michele Caruso Francesco Lombardo Filippo Randazzo Giuseppe Fonte il trastorista della nave Rosa Dragna moglie del comandante le persone disperse in mare Gaspare Conticello direttore di macchina Ignazio Mauro i fratelli Antonino e Salvatore Mirabila Claudio Merlino Giovanni Maranzano Leonardo Bertolino il comandante della nave la cerimonia si è aperta con la lettura dei nomi delle vittime del naufragio avvenuto il 29 aprile del 1990 una tragedia del mare che ha segnato la vita di tante famiglie che in quella disgrazia persero i loro cari i morti furono in tutto 13 ma sette corpi non vennero mai trovati e oggi la targa che ricorda le vittime delle spesso Trapani messa pochi anni addietro dal comune in una strada tra il porto Peschereccio e Tropi di Dignì è l'unico luogo che hanno dove poterne portare un fiore per noi è una data che sicuramente ha sconvolto le nostre vite e avere un punto di riferimento un punto di ritrovo qui sicuramente è qualcosa di importante siamo grati a chi è riuscito insomma a combattere questa battaglia a darci questo punto soprattutto per chi come me non ha nulla in cimitero perché mio padre è rimasto nel fondale insomma quindi per noi è davvero una cosa importante venire qui ogni anno e avere questa questa commemorazione anche se poi durante l'anno veniamo tutte le volte che vogliamo perché appunto per noi è un punto dove venire qui e lasciare una preghiera un fiore quindi è un momento molto molto particolare e questa mattina alla cerimonia ha partecipato anche Giancarlo Randazzo che quel giorno di 34 anni fa era a bordo dell'Espresso Trapani lui riuscì a salvarsi mentre il padre no l'unica cosa che mi rammarica sempre è che ho salvato due persone mio padre purtroppo non ce l'ha fatta però l'ho salvato perché l'ho portato al cimitero diciamo l'abbiamo portato però c'è la cosa che mi rammarica è questa che mi è rimasta dentro tuttora ogni sera prima che chiudo gli occhi penso la stessa cosa dopo 34 anni per me è una cosa indelebile cioè non ce la faccio a dimenticare perché mi è rimasta dentro questo questo problema tuttora io ne soffro perché dico perché ho cercato di fare il possibile ho visto anche gente morta là dentro della nave quando sono andato giù a prendere salvagente per mio padre che poi avevo trovato un giubbotto ho visto il padre e il figlio mi rabbino e mi sono messi abbracciati tutte e due erano messi là sul corridoio perché giustamente il papà si è messo la mano dentro il passamano il suo figlio cercava di liberarlo ma è rimasto pure di là al momento di ricordo hanno partecipato anche l'assessore Giuseppe Virzi ed il sindaco Giacomo Tranchida che ha confermato l'intenzione di realizzare un monumento dedicato a tutte le vittime del mare il monumento si farà e si farà nell'ambito del progetto del waterfront e dunque d'intesa con l'autorità di sistema portuale stanno procedendo adesso con le valutazioni impatto ambientale al ministero con la riqualificazione di questa parte importante del porto delle banchine e in questo contesto va realizzato il monumento poco fa familiari di queste vittime diceva io non ho un luogo dove andare a pregare opporre un fiore in memoria di un mio parente che non c'è più che era una delle 13 vittime del naufragio dell'espresso Trapani ecco anche questo è il senso non dimenticare chi non c'è più non dimenticare chi è perito in mare e dare anche l'occasione se volete fisica materiale perché ci sia un punto dove è possibile guardando il mare ricordarsi e ricordarsi di non dimenticare la cerimonia si è conclusa con il lancio dei fiori in mare da piazzetta del tramonto nei pressi della strada intitolata alle vittime dell'espresso Trapani dove si vede il punto in cui il traghetto lungo oltre 100 metri colò a picco esattamente come oggi senza un filo di vento era il 29 aprile del 1990 a Trapani c'era la processione di Santupace e la grande nave finì negli abissi del mare portandosi con sé tante vite oggi è il giorno dedicato al loro ricordo di Santupace di Santupace Grazie a tutti.